Al termine del convegno sulla business continuity che si è tenuto qui in casa dell'energia e dell'ambiente a Milano, siamo con Corrado Miralli, chairman di BCI Italy. BCI Italy ha voluto fortemente questo convegno, perché? Allora, BCI Italy è Business Continuity Institute Italia e nell'ambito di una storica ormai collaborazione con AIPSA abbiamo voluto affrontare i temi di business continuity e di resilienza in maniera strutturata. Siamo in un mondo, in un momento difficile, siamo usciti da una pandemia, una guerra locale ci ha catapultato all'interno di conseguenze globali. Questo è l'effetto della globalizzazione, quindi un evento locale oggi ha effetti globali, effetti globali l'abbiamo visto sulle conseguenze della guerra, sulle conseguenze energetiche, economiche e finanziarie. Quindi è il momento ideale di parlare bene di business continuity, di resilienza e di portare questi contenuti a sempre un maggior pubblico, quindi coinvolgendo altri stakeholder, piccole e medie imprese, università, istituzioni. Questo per cercare di raggiungere una platea sempre più ampia possibile e fare cultura, perché in Italia è proprio di questo che c'è bisogno, di cultura in materia di resilienza e di business continuity. Benissimo. Passando alle azioni, quali programmi di BCI a breve e medio termine, a supporto dei professionisti della security e della business continuity? Allora, vogliamo coinvolgere, come dicevo, sempre più istituzioni, enti e quindi per fare questo abbiamo creato un tavolo tecnico con AIPSA, dove vogliamo far convergere spunti, idee, iniziative utili a identificare le nuove modalità, diverse modalità, per parlare di business continuity, per diffondere best practices di comportamenti, di processi aziendali che già esistono, che indicano delle norme standard internazionali e che a prescindere dalla certificazione sono importanti, perché danno già, indiano già una direzione da perseguire che è utile all'innalzamento della resilienza della propria organizzazione. Siamo poi parte, ogni organizzazione, il sistema paese è un'organizzazione, è fatta di tanti anelli, la forza di una catena è pari alla forza dell'anello più debole. Quindi abbiamo capito che non occorre coinvolgere tutti quelli che sono gli attori che possono essere coinvolti nei processi di continuità operativa. piccole e medie imprese, università, dobbiamo fare cultura, istituzioni e quindi è questo un po' lo scopo e l'obiettivo che vogliamo perseguire con questo tavolo tecnico.